benvenuti a mappamundi oggi parliamo di deep state di stati profondi e ne parliamo con dario fabbri e federico petroni ciao federico entrambi ormai ormai visi conosciuti a mappamundi allora abbiamo fatto due anni fa anzi due anni e mezzo fa una puntata dario con te proprio sul deep state no stati profondi in occasione di un volume di limes stati profondi numero 8 del 2018 che ovviamente chi è abbonato anche all'abbonamento digitale può scaricarsi dal sito tranquillamente e rivederlo un bel volume no dell'epoca un tema molto interessante molto difficile anche un po da affrontare no perché è condizionato da tanti aspetti però abbiamo pensato che il caso dopo due anni e mezzo di aggiornare quel tema quella quella puntata che dedicamo soprattutto agli stati uniti invece ci allarghiamo anche un po agli altri apparati però io comincerei dagli stati uniti che insomma l'apparato sicuramente di riferimento quindi questi due anni e mezzo cosa cosa è successo e lo stato profondo americano abbiamo parlato tanto di malessere americano lo stato profondo risente ovviamente di questo malessere risente di questo malessere perché vive una contraddizione cioè essenzialmente il malessere profondo degli stati uniti come abbiamo spiegato nel volume anche qui nelle occasioni a mappamundi è riguardante il rapporto che hanno le diverse regioni del paese con l'essere impero cioè con la dimensione egemonica della superpotenza questo malessere non è presente all'interno degli stati profondi ma è qualcosa con cui poi gli apparati dello stato federale devono fare i conti che cosa significa la dire questo questo delta questa distanza tra la percezione della popolazione lo stato egemonico non si rifletta all'interno delle agenzie federali semplicemente perché queste vivono di stato egemonico cioè non possono interrogarsi sulla validità di questo stato perché semplicemente il loro modo di esistere perci per chi ci ascolta al di là di un poio più o meno ameni complottismi agenzie federali cioè la grande burocrazia americana è lì per preservare l'egemonia statunitense sul pianeta né più né meno questo fa di mestiere nel momento in cui una parte della popolazione americana si interroga su quanto sia gravoso questo sforzo su quanto sia conveniente questo sforzo e se sia possibile ritirarsi almeno parzialmente dagli impegni presi in giro per il mondo gli stati profondi faticano a non solo a realizzare propositi di questo tipo ma anche a comprenderli fino in fondo perché sono contrari esattamente allo spirito del loro mestiere dobbiamo immaginarci le agenzie federali divise come spesso sono dal pentagono alla cia passando per il dipartimento di stato per aree geografiche letteralmente come si fa in tutti gli imperi sono aree geografiche che compongono il planisfero nel momento in cui un malessere interno una tempesta come l'abbiamo definita più volte tutto interno alla nazione invece induce o dovrebbe indurre la classe politica perlomeno a ripensare questo tipo di proiezione di proiezione esterna gli stati profondi se questo andasse in porto per intenderci non saprebbero cosa fare cioè a quel punto che mestiere farebbero ma dunque a che cosa servono se hanno in questo momento un distacco tale da buona parte della popolazione americana servono a evitare che teoricamente quando compiere il loro mestiere per bene a evitare che la popolazione si cacci nei guai perché ritirarsi parzialmente un conto abbandonare quindi farlo in maniera tattica ad esempio per risucchiare nella contesa gli altri ma abbandonare veramente lagone internazionale un altro e questo potrebbe condurre gli stati uniti ad una crisi molto profonda perché l'abbiamo raccontato anche qui di nuovo insieme a te scritto sull'imes nessuna superpotenza globale può ritirarsi da se stessa se non implodendo se non scoppiando sotto gli occhi degli altri per essere poi colpita a morte probabilmente dai suoi avversari nel momento in cui vedessero che questa vuole ritirarsi a vita borghese ecco come è successo con l'unione sovietica per concludere a farla breve gli apparati se la passano un po' meglio della popolazione americana perché hanno questa incongruenza di meno però percepiscono che il loro ruolo comincia ad essere stridente con le istanze della popolazione profonda peraltro quella più importante quella bianca è anglosasso Federico allora noi parliamo spesso si parla spesso di stato profondo di deep state con un'accezione negativa come un freno all'azione del leader si è visto abbiamo parlato tante volte anche nell'esperienza della presidenza Trump però lo stato profondo la burocrazia l'apparato è anche lo strumento per fare le cose quindi uno stato efficiente si vede anche dalla forza cioè la forza dell'apparato può essere vista in due modi come un contropotere è un freno per il leader democraticamente eletto ma può essere anche visto come uno strumento che consente a quel leader di esercitare il potere no? Deep state è un'accezione che è diventata molto in voga negli ultimi tempi soprattutto per legittimare o spiegare teorie del complotto più o meno fantasiose in realtà la profondità dello stato è assolutamente necessaria affinché un governo applichi e realizzi il proprio programma senza uno stato senza degli apparati delle burocrazie che sostengono il suo operato e anche custodiscono in un certo senso la continuità di un interesse nazionale è chiaro che una classe politica assolutamente non può funzionare è anche vero il contrario che uno stato con delle burocrazie perfettamente funzionanti che però è privo di una classe politica che gli dà una direzione non sa dove andare e finisce per semplicemente amministrare male il territorio una cosa che vorrei aggiungere sulle burocrazie americane è quella delle forze armate negli Stati Uniti le forze armate sono nettamente la burocrazia più importante più numerosa e meglio finanziata tuttavia negli ultimi anni hanno subito un parziale ridimensionamento del loro ruolo in che senso sicuramente sono la struttura meglio deputata preservare l'egemonia americana nel globo quello è il loro mestiere come diceva giustamente dario tuttavia la loro influenza politica all'interno delle scelte decisionali dell'amministrazione sta venendo pian piano ridimensionata non è un caso che negli ultimi tempi i due presidenti che si sono alternati alla casa bianca trump e biden hanno affidato maggiormente la conduzione materiale della politica estera al segretario di stato mike pompeo ieri e tony blinken oggi addirittura biden è intervenuto al dipartimento di stato dove ha fatto il primo discorso di politica estera in cui ha detto voi diplomatici siete il centro di tutto ciò che voglio realizzare nel nel mondo sostanzialmente ve ne occupate voi e lasciamo invece le forze armate curarsi più degli aspetti marginali non che ovviamente le forze armate perderanno peso soprattutto inerziale nella nella politica estera americana questo assolutamente no avranno sempre un peso enorme ma avranno una minore incisività sulla sul processo decisionale americano anche perché sono la burocrazia che maggiormente forse l'unica burocrazia americana che vive il malessere imperiale della dell'america perché dimentichiamo che le burocrazie americane possono anche vivere staccate dal resto del paese e soprattutto dal midwest e dal sud dove si vive male dove si vive la fatica imperiale concreta americana non non avviene così per le forze armate il grosso dei militari americani continua a venire dal sud e in seconda battuta dal dal midwest quindi il malessere dell'america viene trasportato all'interno del cuore dell'impero attraverso anche le le forze armate infatti il pentagono no dario svolge un ruolo cruciale arrivi ci arriviamo subito perché intanto volevo mostrare un po di grafici pubblicati appunto in quel volume di limes no qui vediamo la casa bianca vediamo come le agenzie federali no quello di cui noi parliamo a fanno sia pressione sul presidente sia ricevono la pressione da parte della polisi stabilita dal presidente quindi diciamo un rapporto no un rapporto bilaterale per così dire qui dialettico qui entriamo invece appunto nell'organizzazione della scia no e qui l'intelligence nell'apparato svolge un ruolo fondamentale e qui abbiamo appunto l'intelligence ricordiamo l'intelligence americana è molto variegato noi siamo abituati con i film no sempre sentire della scia eccetera però l'nsi ha svolto sia durante la guerra fredda si ora un ruolo cruciale un'intelligenza di segnali e comunicazioni e quindi allora volevo sottolineare il pentagono abbiamo detto anche l'altra volta è il più grande apparato del mondo più di 3 milioni datore di lavoro del mondo datore di lavoro del mondo quindi più di 3 milioni di dipendenti no ufficiali poi c'è la parte classified e poi ci sono i contractors quindi quelli che sono a contratto attraverso appalti dati da società private quindi è difficilissimo stabilire di quanto sia composto ma vorrei aggiungere un paio di cose se sei d'accordo riallacciandomi a quanto diceva giustamente federico su che cosa fanno concretamente gli apparati perché a volte c'è un po di confusione a riguardo e poi provare anche a spiegare che cosa fa uno stratega che vive dentro gli apparati perché altrimenti sembra questa figura fumosa eccetera gli apparati in uno stato funzionante sono essenzialmente coloro che presentano le ricette con una parolaccia che va di moda ai noi anche qui la polizia che noi a volte siamo costretti ad usarla come vedevamo poco fa nella grafica propongono le ricette che poi dovrà utilizzare la classe politica che è un po quello che diceva federico non dobbiamo immaginare un politico meno male non è quasi mai un tecnico che dio ci scampi dai politici tecnici ma questo in italia va di moda sempre ex post inizialmente ci piacciono vabbè qui devo fare un riferimento alla trasmissione che abbiamo fatto sull'Italia di Draghi e Draghi ci smentirà sarà l'eccezione questo punto di vista ce l'auguriamo tutti senza alcun dubbio ma un politico non è un tecnico non arriva con degli incartamenti alla casa bianca o a palazzo chigi non ha un'idea specifica degli argomenti deve avere la capacità di intercettare attraverso la sua sensibilità ciò che succede nella società farlo in buona fede e portarlo poi verso i palazzi dove incontra appunto la traduzione di queste istanze che ha in forma primordiale di pancia la traduzione ricetta da parte degli apparati dello stato che sono lì per quello che a loro volta non hanno la sensibilità essenzialmente vivono una sorta di bolla per questo dico i tecnici politici spesso sono molto molto strani da vedere perché mancano dell'altra parte qui si fondono dovrebbero perlomeno fondersi le due istanze quindi non siamo davanti a mostro a più teste pericolosissimo che gestisce il potere c'è il famoso deep state che poi è una espressione turca resa in inglese sono semplicemente coloro che dovevano che devono tradurre in azione se vogliamo tradurre in questa maniera la ricetta ciò che sente la pancia del paese tra di loro poi federico citava il pentagono ma lo stesso si può applicare ad esempio quando funziona la scia ci sono gli strateghi ma ci sono anche i tattici cioè non solo gli apparati non sono dei monolite non hanno una sola opinione sul pianeta dentro ci sono diverse fazioni correnti spesso in lotta fra di loro però i stati compiuti come gli stati uniti tendono ad avere poi una omogeneità finale perché semplicemente sono americani e dediti all'interesse nazionale ma tra di loro ci sono strateghi e tattici che vuol dire lo stratega ha una funzione molto particolare spesso è anche esterno agli apparati ma da questi ascoltato cioè colui che tiene a mente ciò che è stato finora buona parte del lavoro degli apparati è centrato sul passato noi tendiamo a dimenticarlo il presente per quanto può sembrarci strano viene dopo il passato cioè gli apparati siccome devono mantenere la continuità dello stato devono conoscere ciò che è stato fino a ieri quindi la strategia di una nazione o di una collettività è la medesima da decenni e decenni la devono conoscere la devono saper riconoscere non è semplicissimo lo stratega fa esattamente questo poi lo stratega salta completamente il presente e va diretto al futuro cioè parte dal passato dice abbiamo fatto così finora ma per rimanere in posizione dominante parlo degli stati uniti nel tra vent'anni 30 anni dovremmo fare questo infatti è incompreso mediamente lo stratega sui contemporanei per i compresi c'è il tattico che sono gli apparati quelli classici che compongono buona parte della pletora degli apparati sono essenzialmente dei tattici applicati all'analisi che quindi prendono le indicazioni un po sbalestrate ma geniali decisive dello stratega che cambiano la vita delle persone e le portano sulla terra rendendole anche misere però attuabili tutto questo è dentro gli apparati dello stato americano di tutti gli apparati che funzionano poi discuteremo dei nostri ma se non capiamo tecnicamente cosa fanno anche proprio come idea siamo un po lottati dalla realtà perché poi appunto finiamo in sciocchezze da serie televisiva l'apparato come complotto stanza fumosa di chi decide con i pulsanti che cosa succederà nel pianeta non è proprio così il lavoro è un po diverso e infatti allora intanto voglio mostrare queste carte no il mondo visto dal pentagono di cui abbiamo parlato ricordo che il pentagono appunto anzi faccio riferimento anche la trasmissione sull'america fatta l'altra volta no con caracciolo che sottolineava come prima della seconda guerra mondiale no il pentagono l'esercito degli stati uniti fosse veramente ai minimi termini in realtà lì nasce l'impero dopo la seconda guerra mondiale americana il pentagono con la guerra fredda comincia a diventare quello che oggi cioè il mega apparato un altro scatto probabilmente c'è con l'11 settembre no dopo l'11 settembre c'è il prevalere anche in termini di finanziamenti del pentagono su tutte le altre agenzie federali agenzie federali qui vediamo il mondo visto dal dipartimento di stato e vediamo che il mondo visto dal dipartimento di stato è diviso in maniera diversa dal pentagono e questo per sottolineare quello che dicevi come poi il problema delle utili del complotto che questo dip set questo stato profondo non è un monolite in realtà ogni agenzia ragiona con la propria testa e all'interno delle singole agenzie sono in concorrenza fra di loro sono concorrenza tra loro per il budget prima di tutto però allora allarghiamo il discorso perché non esiste solo l'apparato degli stati uniti e federico la francia gli apparati sono legati ovviamente alla tradizione dello stato no quindi la francia anche solo per uno stato così antico così importante no affondato la francia il concetto di stato nazione in europa ecco il consiglio ovviamente la lettura fondamentale di diplomasi diplomazia di eric hissinger ma senza andare appunto nella storia oggi l'apparato francese svolge un ruolo importante non solo per la francia ma in europa e anche nella relazioni internazionali assolutamente come hai detto giustamente in francia lo stato precede la nazione lo stato ha fondato la nazione questa consapevolezza è presentissima all'interno degli degli apparati francesi ma anche nella classe politica la formazione dei burocrati francese e quella dei politici tende spesso a essere la medesima tutti passano dalle tre quattro grandi scuole di formazione dell'elite francese l'ecol normal l'ecol nazionale d'amministrazione si anspo eccetera che formano i appunto i futuri dirigenti politici o burocratici a una medesima visione delle cose questo è stato tendenzialmente fino agli ultimi dieci vent'anni poi anche nella negli apparati francesi si è cominciato a diffondere una grande pluralità non tanto su che cosa deve fare materialmente la francia in politica estera ma su idee divergenti della francia stessa per tradurlo in termini concreti si è sempre più annidata all'interno del cosiddetto stato profondo francese una corrente che vuole la francia buon allievo allievo mansueto degli stati uniti che sia al suo posto all'interno della sfera di influenza americana in europa e nel mondo e questo va contro invece tutta una tradizione non solo burocratica ma anche proprio nazionale del di una idea della francia come attore di primo rango rango in francese è una parola che esprime geria gerarchia cioè che esprime primato che punto era una classe quella diciamo che che passa sotto il nome di gallo mitterrandista ossia che espressione delle visioni geopolitiche sia del generale de gaulle che del suo diciamo contraltare a livello ideologico françois mitterrand appunto una burocrazia che doveva perseguire e riconquistare anche una certa indipendenza della francia dagli stati uniti mentre dalla caduta del muro di berlino e poi più intensamente quelle amministrazioni di sarkozy e di françois lond le burocrazie francesi si sono appunto riempite di questa classe che è molto aderente alla narrazione alla propaganda americana centrata su multilateralismo su multiculturalismo anche tutte cose che scientemente dolosamente l'america in quanto prima potenza del globo insegna trasmette alle periferie del proprio impero affinché sostanzialmente se ne stiano al loro posto ecco invece con macron è arrivata al potere una è tornata al potere volendo una classe dirigente tra il burocratico il politico che è determinata a riconquistare una certa indipendenza della della francia anche approfittando delle distrazioni dell'america approfittando dolosamente degli dei malumori generati in europa da dall amministrazione trump ecco dunque che macron sin dal suo libro revolution scritto prima dell'ascesa all'eliseo si era scagliato contro la presenza di dei filo americani tendenzialmente all'interno della burocrazia francese un esempio che fa spesso macron è nel 2003 2002 ci rifiutammo di intervenire con gli stati uniti in iraq vi ricorderete forse il no di shirak il no di dominique de vilpain alle nazioni unite no otto anni dopo invece interveniamo in libia tra l'altro sull'onda di giustificazioni che sono tipiche della propaganda americana no quindi la responsabilità proteggere l'intervento a fini umanitari eccetera eccetera macron dice nel 2003 abbiamo fatto bene perché l'iraq è andato a finire in un disastro nel 2011 abbiamo fatto male perché anche la libia è finita in un disastro ma la colpa è nostra di quel di quell'intervento ecco dunque che attraverso questo macron sta cercando di non tanto di ripulire però quanto meno di marginalizzare marginare la corrente filo americana nelle nelle burocrazie francesi e quindi anche la francia anche la francia quindi un esempio no di questa dialettica no con il potere poi in francia c'è un ruolo importante anche dell'istruzione no della scuola che portano i funzionari all'amministrazione l'enac e così via tanto è vero che proprio parte della della degli strali di macron sono rivolti molto all'università in questi giorni in francia si dibatte tantissimo di islamogoscismo c'è di una sinistra filo islamista questi discorsi che sembrano puramente politici o al massimo intellettuali sono profondamente strategici perché macron e il suo i suoi fedelissimi si stanno scagliando contro l'influenza culturale delle idee delle teorie sociologico politologiche trasmesse dalle università americane negli atenei europei ciò che secondo macron nei suoi fedelissimi sta svuotando l'idea di sé della francia sta aumentando la disunione della della collettività francese sta in ultima stanza diminuendo la presa dello stato sulla nazione che secondo macron è un fatto politico a riprova di quello che dicevamo del dello stato che fonda la nazione in tutto questo si lega anche il suo suo attacco al separatismo islamista il suo attacco al alla penetrazione al supporto americano di queste di queste idee il rilancio dell'assimilazione no certo però qui entriamo in altro tema federico e non abbiamo il tempo di approfondirlo io volevo mostrare però allora questo schema di quel volume come vediamo nel governo francese no il ruolo centrale anche il collegamento qui dell'intelligence no il legame col presidente repubblica ma con l'intero governo ma è dario allora volevo mostrare subito ecco lo stato profondo giapponese abbiamo visto la francia un altro stato profondo importante un altro apparato importante il giappone di cui tu ti stai occupando nella tua rubrica del venerdì esattamente il giappone ne abbiamo già parlato proprio lo scorso merdi quindi oggi lo toccheremo così passando ma vale la pena perché quando si tratta di stati profondi è impossibile non metterci dentro il giappone il giappone è un paese che essenzialmente fa meno della politica però bisogna rendersene conto altrimenti tendiamo a seguire passato le oscillazioni della politica come si fa a livello giornalistico senza capire bene quello che succede se il giappone fosse semplicemente la sua politica sarebbe l'italia il giappone ha una tale tasso di mutazioni politiche di cambiamenti di governo che non è lontanissima al nostro paese però poi risultati sono molto diversi perché non solo soprattutto la ragione principale perché la collettività nipponica è molto diversa la nostra che poi veramente ciò che conta è una collettività che esprime anche gli apparati gli apparati essenzialmente federico l'ho accennato in forma implicita gli apparati di una collettività sono sia espressione della sua società ma è in assoluto l'elemento che più viene gestito dal patron dal padrone esterno cioè l'elemento che maggiormente si riferisce al dominatore vogliamo chiamare la leggemone di turno che o lo ha creato come nel caso del giappone della germania che dei nostri apparati per riferimento agli stati uniti o continua semplicemente a gestirlo da reboto il fatto che macron si scagli contro tutto ciò perché la francia non ha gli apparati creati dagli stati uniti ma comunque sono influenzati figurarsi noi che ce li abbiamo come espressione della volontà americana così la germania diciamo il giappone giappone che tipo di apparati ha molto brevemente li ha estremamente coesi non sono monolite neanche in giappone ma ci si avvicinano ma perché la società giapponese tende ad essere molto omogenea sulla visione del mondo sebbene con delle parti frastagliate come in ogni collettività composta da esseri umani soprattutto ha la differenza di vivere in forma clanica cioè si accede allo stato profondo giapponese ai massimi ministeri che sono il sogno di una carriera intera vengono chiamati peraltro fondali di nebbia perché la zona in cui esistono i principali ministeri la zona di toga in cui esistono i principali ministeri della giappone ha lo stesso nome di quella in cui esiste il dipartimento di stato a washington a casa c'è fagi barum che vuol dire appunto fondale nebbioso e lo stesso capita in in giappone qui chi entra nell'apparato lo fa in gruppo si chiamano d'occhi composti già da colleghi che all'università si frequentavano che poi fanno l'esame insieme poi vengono avviati insieme lavorano insieme non entrano singolarmente questo crea non solo un reso una rete di relazioni fondamentali nella gestione dello stato della sua continuità ma anche una conoscenza un'intimità che poi consenta agli apparati nipponici di subire gli shock più velocemente perché la coesione interna conduce comunque a scelte che sono sempre le medesime condivise o quasi sempre perlomeno ed è talmente alto l'impegno della dell'apparato che spesso trascende totalmente la politica è una cosa storica già da fine ottocento era così in giappone addirittura tra fine ottocento e 1920 il 91 per cento delle leggi approvate poi dalla dieta giapponese sono leggi prodotte direttamente dagli apparati dello stato oggi non siamo lontanissimi ma dicevamo da questo livello così alto anche soltanto abbandonarlo è considerato un delitto è considerato l'abbandono della burocrazia il fallimento di una vita al punto che l'espressione giapponese che indica lo raccontavamo anche il mio approfondimento la fine dell'esperienza nella burocrazia nazionale per passare al settore privato alla pensione discesa dal paradiso per noi è inconcepibile però non anticipare troppo diciamo dare l'appuntamento per venerdì basta soltanto ricordare che il giappone ha questo tipo di stato è ciò che lo rende molto diverso da noi perché se sulla politica possiamo essere un po simili loro hanno tale profondità di stato insomma sono un paese un po diverso dal nostro mettiamola così senza dare giudizio ma sono impliciti allora un altro paese che ha un stato profondo molto importante ovviamente la cina ma li dedicheremo una torneremo torneremo dedicheremo una trasmissione apposita anzi fateci sapere nei commenti se appunto vi va di ascoltare vedere una trasmissione sullo stato profondo cinese e ricordo sempre di iscrivervi al canale no siamo sul canale youtube di limes se ci sostenete attraverso appunto l'iscrizione ma anche la russia insomma meriterebbe una trasmissione a parte però volevo mostrare questo schema che abbiamo fatto appunto nel volume di limes su il sistema di potere no di putin della russia e qui non a caso parliamo di sistema di potere di putin perché vediamo un apparato russo importante storico per esempio è stato quello del che che be no dario diciamo prima dell'intelligence però storicamente ha vissuto anche un dualismo tra l'apparato e il partito no comunista durante l'unione sovieti e quindi oggi parliamo per rappresentare il sistema di potere russo più che su apparati parliamo su gruppo di potere legati ad oligarchi a singoli leader no un sistema abbastanza c'è un po' di dibattito su questo no per esempio lucio caracciolo nostro direttore spesso descrive putin come un amministratore delegato che comunque è delegato da qualcun altro evidentemente riferimento agli apparati o anche agli oligarchi come troviamo in questo schema lo stesso avvelenamento di navali che non sappiamo certamente noi chi è stato l'artefice sembrerebbe un'operazione interna antiputiniana visto che navagna era era ed è per putin semplicemente era meglio prima però insomma era per putin l'oppositore perfetto cioè viveva soltanto nell'elite moscovite occidentali ma nel paese non esisteva il fatto che ci fosse qualcuno che volesse eliminarlo in quel modo comunque volesse mettere in imbarazzo putin segnala che comunque una parte di stato c'è in russia e non tutte dalla parte di vladimir putin questo era insomma per dire che l'apparato dipende come abbiamo visto anche come diceva federico no sulla francia anche dalla forza dello stato no della tradizione dell'equilità dello stato e passiamo all'italia dario il tempo stringe amici vediamo lo schema dei poteri in italia del 2020 di cui abbiamo parlato anche appunto nella trasmissione ricorda ancora sul governo draghi e questo è un articolo di cui si occupato alessandro a reso e non so se sei d'accordo però io vedo l'italia un po' una via di mezzo no tra la francia e la russia cioè la francia che ha un apparato statale antico e storico anche noi abbiamo un apparato statale più recente ovviamente rispetto alla francia ma che ha avuto un ruolo molto importante nella storia sia durante il fascismo sia durante dopo la seconda guerra mondiale ma nello stesso tempo abbiamo anche un po come la russia tanti gruppi di potere no una politica legata molto alle persone e quindi è un po' una via di mezzo non so se sei d'accordo mettiamola così il nostro apparato dell'ossi apparati meglio mettiamola al plurale hanno grande potere prendiamo la magistratura i servizi segreti in italia sono degli apparati veramente molto potenti allo stesso tempo sono anche molto tecnici cioè la differenza con altri apparati abbiamo citato quelli americani anche quelli russi e che spesso hanno un senso dello stato più sbiadito perché sono italiani perché siamo italiani cioè dobbiamo sempre mettere in conto questo cioè le collettività esprimono la politica e gli apparati non è mai viceversa anche se spesso la vulgata vuole questo i politici non esistono su Marte provengono dalla collettività abbiamo pochi gradi di separazione rispetto ai politici se li andiamo a cercare ai noi o fortunatamente insomma questo lo deciderà chi ci ascolta quindi l'Italia e gli apparati hanno questa funzione hanno un grande potere spesso sono molto tecnici nel loro modo di intervenire ma non hanno una visione dello stato completa perché non esiste o non si rintraccia nel nostro paese quindi la loro collocazione è un po' di questa ragione di questa estensione mettiamoci dentro gli Stati Uniti gli Stati Uniti hanno ancora oggi un ruolo importante sugli apparati del nostro stato non può essere altrimenti non siamo gli unici anche in Germania Federico raccontava di come Macron si lamentasse nel suo libro dell'atteggiamento oggi secondo Macron troppo accondiscendente degli apparati francesi nei confronti degli Stati Uniti su alcuni temi e si richiamava all'invasione dell'Iraq quando invece la Francia fece la voce grossa all'epoca anche la Germania si smarcò dall'invasione americana in Iraq ma gli apparati dello stato federale tedesco aiutarono fortemente gli statunitensi ad invadere l'Iraq le forze armate tedesche per quello che conta furono molto propense all'invasione ecco gli apparati spesso hanno questa funzione cioè che cosa fanno? mantengono che sia giusto o meno è difficile anche stabilirlo mantengono quella barra che lega poi la collettività nella sfera di influenza in cui è confitta perché anche qui dobbiamo smarcarci da un'illusione le sferi di influenza non sono scelte arbitrarie non c'è niente di più divertente di sentire in Italia a livello giornalistico dobbiamo riaffermare la nostra vocazione atlantista come se fosse una scelta come se noi avessimo scelto nel 1945, 43, 46 quando vi pare di appartenere alla sfera di influenza americana noi siamo stati invasi ed occupati e siamo ancora nella sfera di influenza americana per questo motivo gli apparati hanno questa funzione sono stati creati per questo lo fanno più o meno inconsciamente ma mantengono questa realtà concludo ricordando, visto che ho citato la Germania quando ad esempio la corte di Karlsruhe interviene per limitare la capacità tedesca di esporsi sul piano finanziario per salvare l'eurozona lo fa da apparato voluto dagli americani inevitabilmente in maniera tecnica rispettando in punta di diritto ciò che è la sua prerogativa prerogativa immaginata dagli statunitensi affinché la Germania non potesse realizzare voli pindarici di questo tipo per terrore del problema per gli americani dei recovery fund attuale che poi da ciò arrivasse a chissà qual'altra influenza geopolitica gli apparati anche in Italia più o meno svolgono questa funzione ripeto non siamo gli unici lo fanno all'italiana quindi molto bene sul piano tecnico non hanno spesso una visione d'insieme con delle eccezioni si intende Allora Federico il tempo stringe a te la battuta conclusiva allora un breve intervento conclusivo e tu che ti occupi sempre del mondo oggi sul sito di Limes quindi sei estremamente legato all'attualità internazionale allora a te la battuta conclusiva io ti chiederei secondo te quant'è il peso degli apparati oggi nella politica internazionale ma insomma dimmi tu quello che vuoi il peso degli apparati è decisivo ma sempre più sfidato se in America e in Germania in modo più visibile viene apertamente contestata l'autorità dello Stato inevitabilmente viene contestata anche l'autorità degli apparati ecco che allora gli apparati nel prossimo futuro non dovranno solo guardarsi dal conservare e prolungare l'interesse nazionale nei confronti dell'esterno ma dovranno anche cercare di raccordarsi meglio con le priorità che vengono appunto dalla pancia del paese e allora grazie a Federico Petroni complimenti per la sintesi a Federico Petroni eh sì ottimo bellissimo intervento conclusivo e quindi l'appuntamento alle prossime puntate di Mappamundi alle prossime trasmissioni sul canale di Limes vi ricordo appunto se vi è piaciuta questa trasmissione di iscrivervi al canale e di selezionare anche la campanella per ricevere tutte le notifiche alla prossima alla prossima grazie grazie